Gianni Colacione, 13 aprile 2013, stiamo a Caffè Fontana che ha ospitato alcune interviste di Libri TV, già di una volta, più di una volta e lo ringraziamo per questo e siamo in compagnia di Pierpaolo Segneri, il radicale che si è dedicato, giovane ma comunque si si è dedicato lungamente ai temi radicali e oggi lo abbiamo ospite per Libri TV parlando in esclusiva per la prima volta di un argomento a cui si è dedicato con un'elaborazione diciamo culturale, storica e politica con praticamente dei lavori letterari, quindi dei libri, tre successivi, quindi sarà questa una nostra intervista qui che vi offriremo, che sarà un pochino un percorso cronologico a tappe, tre tappe e parleremo della rosa nel pugno, rosa nel pugno che i più conoscono diciamo come simbolo lista elettorale, simbolo elettorale ma in realtà è un qualcosa di più, dietro alla rosa nel pugno c'è una, a questa espressione, c'è una storia politica, c'è una storia politica che richiama ovviamente a valori liberali italiani e che ovviamente ha in tessuto un pochino o meglio ha delle radici che sono anche in un certo modo trasversali, di questo ci parlerà Pierpaolo Segneri ovviamente partendo da questo viaggio diciamo tra virgolette dialettico con il suo primo lavoro che è questo qui di La Rosa nel pugno, un lavoro del 2004 a cui Pierpaolo si è dedicato, Pierpaolo Segneri Bianchini editore, ecco cominciamo da questo momento e parlando appunto nel 2004, Pierpaolo dici di cosa parla questo libro e come appunto è cominciato, come è scaturito questo tuo interesse sull'argomento? La domanda mi permette finalmente di raccontare, di spiegare tanti passaggi che hanno caratterizzato gli ultimi anni della mia attività politica e che per lo più sono rimasti un po' sotterranei o comunque in un ristretto ambito del mondo della galassia radicale e socialista. La Rosa è nel pugno, un libro del 2004, in realtà nasce nel 2002, ad un certo punto c'era in quel momento come segretario di Radicali Italiani Daniele Capezzone che aveva cominciato ad avere una linea politica che non mi convinceva, una linea politica che infatti ha entrato anche in rotta di collisione già in quel momento con Marco Pannella che proponeva Iraq Libero mentre Capezzone faceva altri discorsi. Ma al di là di questo nasce nel 2002 proprio come linea di prospettiva e di visione per i radicali, l'area liberale e socialista nel nostro paese, una visione che permettesse di costruire un soggetto politico e quindi avanzava in questo libro il progetto politico della Rosa nel pugno. Ovviamente la Rosa nel pugno è il simbolo storico dei radicali degli anni 70-80, delle grandi battaglie dei diritti civili e poi successivamente anche quelli contro lo sterminio e per fame nel mondo, tutti ricordiamo queste grandi conquiste e battaglie radicali di Marco Pannella e di Emma Bonino, ma il simbolo che Pannella ebbe da Mitterrand e che era il simbolo poi che divenne quello del Partito Socialista europeo dell'internazionale socialista. Io già nel 2002 tento un qualcosa di imprevisto, per esempio a livello personale nel comune di Frosinone dove voto, mi candidai nella lista civica sostendo il candidato allora dei DS, però dando già forza all'interno del forum web dei radicali, la community dei radicali italiani, già nel 2002 si possono andare a ritrovare queste cose, dicevo la Rosa nel pugno è un progetto politico, è un fiore che sta per spuntare, c'è chi l'ha già visto spuntare e ovviamente sottinteso era un modo per dire guardate che io ho questa intuizione, secondo me dobbiamo lanciare questo progetto e spiegavo come si unisce quello che è il pensiero, il metodo liberale con l'azione socialista, cioè un socialismo non marxista, leninista eccetera, ma un socialismo che potesse essere non marxista, cioè un socialismo della capacità di essere fortemente liberale, di reciprocità, di attenzione verso gli ultimi, di capacità di creare anche quei correttivi sociali che il liberismo ha in sé e che devono essere attuati, in una prospettiva storica ovviamente, storica che facevo partire da Salvemini e dai fratelli Rosselli che attraversava tutta l'esperienza anche dei socialisti riformatori, riformisti, socialisti libertari fino ad arrivare a loro sfortuna, ma ovviamente facendo emergere quella che era la politica radicale dal 55 in poi, cioè da Mario Pannunzio in poi con la grande forza dirompente del pensiero di Guido Calogero, la filosofia del dialogo di Ernesto Rossi e mi sembrava di aver riannodato un filo, dibattito sul forum del 2002, dibattito sul forum dei radicali del 2003, intanto si cominciava a parlare, ovviamente questa cosa non venne percepita e recepita positivamente dall'allora dirigenza dei radicali e trovai moltissima difficoltà a farmi ascoltare, in realtà tentavano appunto di emarginare la forza delle idee per dare spazio ad altre logiche, ad altri metodi e così Capezzone aumentava e cresceva nella sua popolarità e le idee che io proponevo di questo progetto pulito di rosa e il pugno venivano derise, denigrate, raccolte con indifferenza proprio all'interno della galassia radicale. Devo dire che è stato un momento difficile perché non mi sono scoraggiato, però mi sono reso conto che l'ambiente non era pronto a recepire questo messaggio. qualcuno aveva cominciato comunque a superare certe logiche, a comprendere la portata di questo mio progetto e devo dire che ho trovato all'interno dei radicali anche degli interlocutori e sicuramente Marco Pannella ha cominciato a capire l'importanza di questo e quindi io fin dal 2002 parallelamente al dibattito interno e radicale, mi costituì il ponte nei confronti allora dei socialisti dello SDI di Boselli, parlando con la dirigenza dell'epoca, lo disse anche a Marco Pannella, dissi guarda io sto intavolando questo dialogo sull'onda di Guido Calogero con i socialisti per vedere questo progetto che ho in mente e lui dice vabbè fai, in realtà devo dire che i socialisti sono stati molto attenti alle cose che dicevo e tanto più che si rendevano conto delle affinità che strada facendo emergevano tra la linea all'epoca di Boselli e di Villetti e quella radicale che io proponevo e che Capezzone invece escludeva, denigrava, soffocava con dei metodi anche autoritari, antirradicali, antiliberali sicuramente e con una dirigenza compiacente. Comunque nel 2002-2003 effettivamente i socialisti cominciarono a raccogliere le mie proposte di dialogo e infatti per esempio lo SDI fu il primo soggetto politico ad appoggiare l'idea Iraq Libero che poi venne portata anche in Parlamento e discussa in Parlamento ma così come tante altre iniziative sulla moratoria, sulla pena di morte, sull'indurto, tutte cose che cominciavano ad essere patrimonio dei socialisti in comune con quella dei radicali riprendendo un filo storico che veniva da lontano e che ha sempre visto le grandi conquiste civili in Italia, essere spesso una forza capace di rendere sintonici i radicali con i socialisti, cioè i liberali e i socialisti. Baslini-Fortuna, Baslini era liberale e Fortuna-Socialista e la legge sul divorzio venne raggiunta, poi con i radicali il referendum sul divorzio e tutto. Quindi quando mi sono trovato questo muro davanti, dentro i radicali, mentre ritrovavo ascolto da parte dei socialisti, allora mi sono deciso, durante l'estate del 2004 ho scritto un libro, appunto un pamflet, si chiama appunto La rosa è nel pugno e ne parlai agosto-settembre 2004, ero quasi in fase di pubblicazione, terminavo le ultime correzioni dei bozzi anche con Gianfranco Spadaccia che si era allontanato dai radicali e che dopo l'alleanza del 1994 con Silvio Belusconi non aveva più frequentato con assiduità. Io gli dissi guarda ho questa idea, secondo me un po' funzionale, lui diceva no, no, ormai Pannella non riprende più questo discorso, era sfiduciato, tu vuoi fare questa cosa ma Pannella non è d'accordo, però tu sogna d'occhi aperti, però tu di qua, tu di là. Ho detto non ti preoccupare, facemmo comunque un discorso quell'estate, registrato anche e mi diede molte idee poi anche da sviluppare nel libro, lo stesso accade con Luigi De Marchi e altre persone con cui cercai di confrontarmi perché avevo trovato in queste persone un ascolto, una capacità di dialogo su un progetto politico. E così nell'ottobre 2004 pubblicai questo panflete La Rosa è nel pugno, tra l'altro l'idea del titolo me la diede Simone Sapienza perché disse se metti il verbo crei l'azione, il verbo, infatti Simone era una di quelle persone molto attente e convinte che questo progetto potesse avere una sua forza. Ne parlare anche con Marco Cappato che mi disse vabbè tu lavora, ci vedi, vediamo che succede. E così al congresso allergife del 2004 di Radicali Italiani arrivai con questo panflete con l'idea addirittura di presentare una mozione generale alternativa a quella del segretario Daniele Capezzone, chiesi proprio a Cappato se voleva farlo lui, guidare lui questa alternativa. Però in quel momento c'era anche la candidatura di Benedetto della Vedova, quindi Marco Cappato pensò che una sua candidatura avrebbe favorito poi la vittoria di Benedetto della Vedova, comunque erano tutte e due, sia Benedetto che Daniele, prospettive che aprivano a destra. Io penso che i radicali abbiano un'altra funzione al di là della destra e della sinistra e quindi non ho mai apprezzato le posizioni ideologiche, come se i radicali sono di destra, non i radicali sono di sinistra, i radicali per la loro storia sono l'alterità a questo sistema. E quindi secondo me invece in quella fase bisognava costruire l'alternanza dopo questo governo Berlusconi che aveva iniziato nel 2001 e che non aveva fatto assolutamente niente, nessuna delle riforme che aveva promesso. E arrivai con questa prospettiva, con questa mozione, però dovetti rinunciare perché Cappato decise giustamente, secondo lui, di non raccogliere una sfida così ardua che poteva portare a esiti addirittura opposti da quelli da noi prefigurati. E quindi consegnai la mia idea sullo scaffale dell'ingresso del congresso e cominciai a far conoscere in maniera anche più ampia rispetto al forum e a dibattere, a discussioni che comunque avevamo nei comitati, anche ai congressisti che magari una volta all'anno partecipano a questo evento radicale e quindi vengono a conoscenza anche di cose che sviluppate e maturate negli anni precedenti, nell'anno precedente. E quindi continuato il discorso del muro di silenzio rispetto a questa proposta, ma non mi sono arreso e sono andato avanti. E quindi ho avuto poi quel novembre stesso 2004 l'occasione di portare questo panflet ad un dibattito convegno dedicato a Pietro Nenni, tenuto all'hotel Ergife di Roma, organizzato dai socialisti, in cui c'era Boselli, Biglietti, c'era Giuliano Assalli, c'era Giuliano Amato, c'era Ottaviano del Turco. E consegnare questo libro un po' a tutti quanti i big dei socialisti, con la speranza che fossero tutti i semi che potessero fiorire in una rosa. Siamo nel 2006, se non sbaglio, arrivati nella narrazione con Pierpaolo. Nel 2006 Pierpaolo Pierpaolo approfondisce e rilancia queste sue tematiche, che ripeto sono trasversali, liberali, radicali. E si è nel frattempo costituito il gruppo parlamentare della rosa nel pugno e vi è una seconda edizione, questa, della rosa nel pugno, con la prefazione di Gianfranco Schietroma, che è appunto un deputato del gruppo parlamentare. Che cosa succede nel frattempo Pierpaolo? Più che seconda edizione, comunque, come correttamente scritto, quella è una ristampa del libro del 2004. L'ho chiamata seconda edizione perché ho cambiato la copertina e si è giunta questa prefazione di Gianfranco Schietroma, all'epoca deputato della rosa nel pugno e quindi diciamo ho ristampato parola per parola quello che avevo scritto, senza toccare nulla. Ed è incredibile come, rileggendolo nel 2006, capisse proprio le indicazioni precise che avevo dato sui socialisti di Boselli, su come costruire questa idea, come il progetto potesse diventare soggetto politico. La rosa nel pugno è stata la grande novità delle elezioni politiche del 2006 perché effettivamente provocò l'alternanza al governo. Pannella poi giustamente la definì l'alternanza per l'alternativa, dando appunto un segno tangibile di quello che il progetto doveva diventare. La cosa è che da quel libro al libro successivo, cioè La ristampa, accadde che nel momento in cui noi come radicali andavamo a Rigotorto d'Assisi nel cimitero anglo-americano a fare visita sulle tombe di caduti nella seconda guerra mondiale. Grazie a un mio continuo intervento ennesimo con i socialisti, Pannella fu invitato al Consiglio nazionale dello SDI in quello stesso momento. Noi andavamo in Umbria e Pannella fu invitato al Consiglio nazionale dello SDI. Da lì cominciò una fase di dialogo molto forte e si aprì effettivamente questa prospettiva. Ma dentro il radicale cosa accadde? Pur essendo stato la persona che dal 2002 ha indicato, costruito, ideato, anticipato il progetto La rossa nel pugno, sono rimasto assolutamente escluso da qualsiasi tavolo poi effettivamente nel momento in cui il progetto si stava concretizzando per partecipare attivamente rispetto a chi aveva indicato questa strada, che aveva avuto l'intuizione di anticipare i tempi che poteva dare un contributo determinante penso io, perché questo progetto non venisse rovinato da altri elementi di persone che non solo non lo condividevano ma lo osteggiavano, lo contrastavano in maniera accesa e proprio della dirigenza dei radicali. Questo ti dà il senso del metodo interni e radicali che si lamentano che ci sono delle esclusioni dei radicali all'interno della partitura, proprio all'interno dei radicali si usano questi metodi, questi sistemi. Sarà stato un periodo, sarà stata una segretaria, non so che cosa sia stato, ma effettivamente è incredibile andare a vedere tutti i dirigenti della rosa neppugno del tavolo che si era costituito e non poter vedere né leggere il mio nome che era stato quello che oggi verrebbe definito il nome di un pioniere. Questa è la logica che ha costruito in maniera sbagliata un progetto politico e quindi in quanto tale questa logica era destinata a fallire. Il progetto pulire rosa neppugno è rimasto un progetto, io descrivo nel libro e invito tutti magari a trovarlo, a cercarlo, a leggerlo. Nel 2004, se si può rileggere come se fosse oggi, è ovvio che ci sono dei riferimenti del momento, però ha un'attualità incredibile. Oggi è proprio il ridosso dell'elezione del nuovo Capo dello Stato, il rilancio dell'ennesima volta rosa neppugno, però mi rendo conto quando a Fiuggi, settembre 2005, andammo per il primo atto fondativo di questo percorso che portò alle elezioni del 2006 e mi accorsi che in quel momento a Fiuggi non nasceva rosa neppugno, ma rosa neppugno moriva. Moriva come progetto capace di diventare soggetto, quindi è rimasto progetto, ma in quel momento avevo capito che non sarebbe mai diventato soggetto politico, è diventato semplicemente un soggetto elettorale per quell'anno, il 2006, ma era destinato, io penso questa cosa, non si può costruire qualcosa a danno di altri, per costruire non bisogna mai farlo a danno di altri, è una legge, se tu costruisci a danno di altri, sul dolore degli altri, costruisci sulla sabbia, praticamente in quel momento mi rese conto che mentre tutti pensano a Fiuggi nasce il progetto pulire rosa neppugno, no, a Fiuggi muore, era sicuro, non poteva in nessun modo procedere, quindi scrissi questo libro proprio per tentare di rilanciare, parlo della ristampa per rilanciare una linea, un'indicazione liberale, socialista, laico, riformatrice, radicale, anche cattolico liberale, il pensiero, il metodo liberale e l'azione socialista, ma anche questo non servì, infatti Daniele Capezzoni che era stato quello che aveva osseggiato maggiormente questo progetto e la linea di Capezzoni era all'opposto della linea del progetto politico della rosa neppugno, cavalca l'onda in 48 ore, passa da essere filo bush, lano, un po' guerrafondaio, a una linea rosa pugnante, come se ci fosse un filo che unisse questo percorso in 48 ore, quindi io scrissi a pannella, guarda che questa persona non è leale né libera, perché ripete sempre di essere libero, ma non è libero e non è leale, perché davanti a questa cosa avrebbe dovuto a dire Pierpaolo avevi ragione, ho bisogno del tuo sostegno, del tuo aiuto e invece mi trovai escluso completamente. La terza tappa e ultima di questo percorso è il nuovo libro, il libro successivo, l'ultimo dei tre, il nuovo possibile di Pierpaolo Segneri, la spirale portaparole edizioni con la post-passione di Enrico Buemi che è stato deputato socialista nell'Ose nel pugno. Il nuovo possibile in qualche modo riconferma questa attitudine di sognatore di Pierpaolo, siamo in tempi più recenti, il berlusconismo ancora è pienamente in auge e ormai abbiamo abbandonato tutti quanti l'idea che si potesse verificare e realizzare grazie a Berlusconi la rivoluzione liberale. Il nuovo possibile è il libro del 2008 in cui spiego che il progetto politico della Rosa nel pugno è il progetto per la lotta alle ingiustizie, per la riforma della giustizia, per uscire dalla mala giustizia, lotta alla mala giustizia italiana e per la legalità rispetto all'illegalità diffusa. Un riferimento secondo me importante è il libro L'idea di giustizia di Amartya Sen e nel libro lo dichiaro, anche Enrico Buemi nella sua postfazione lo ricorda, dice che il problema centrale è quello della giustizia, è il problema che i radicali e Marco Pannella hanno sollevato come necessario per stabilire legalità nel nostro paese e la Pugno è questo, con anche un valore simbolico, la rosa è l'infinito e il pugno rappresenta il finito, cioè l'uomo è l'infinito, ma anche la rosa è la femminilità, la dualità quindi maschile e femminile, oppure la rosa è il pensiero liberale e il pugno è l'azione socialista. È qualcosa che però è una dualità che sta insieme, cioè la rosa ne è pugno, il pugno tiene la rosa come fosse un tutt'uno, non c'è una separazione, in realtà sono due cose che si compenetrano, che convivono in una visione che permette anche di comprendere come questo progetto non è un passaggio, ma è una visione carica di memoria, viva nel presente e si proietta verso il futuro. Secondo me oggi con il Partito Democratico che si va sgretolando, come io chiamavo sempre un partito mai nato, il progetto rosa e il pugno torna oggi di grande attualità. Infatti nel libro lo spiego, nel 2008, ma non lo diceva nessuno, tutti dicevano vabbè ci siamo inventati la lista Bonino, poi siamo inventati la lista pannella, poi ci siamo inventati la rosa e il pugno, poi ci siamo inventati come se ogni volta i radicali dovessero inventarsi una cosa per… un progetto la rosa e il pugno non è un'invenzione di un momento, è una visione, un punto di riferimento per il futuro, è il futuro. E quindi dicevo, ci sono due progetti nello stesso cantiere, il cantiere e quello del Partito Democratico, ma i progetti in antirisi tra di loro sono quelli dell'ulivo e della rosa nel pugno. Questa cosa io la scrivo già nel libro del 2004, la rosa nel pugno è il progetto che nasce in antirisi al progetto dell'ulivo e questo non si è capito, non si è voluto capire. Oggi io rileggendo il nuovo possibile mi accorgo di come sia fondamentale oggi rileggerlo o leggerlo perché non ho avuto la possibilità, perché ci fa chiarezza sull'attualità. Quindi la cosa che mi preme è che appunto si possa ricostruire questo percorso per la rosa nel pugno al di fuori delle mancanze e delle omissioni che hanno caratterizzato questi anni di lotta politica che mi hanno visto soccombere rispetto ad altre logiche che hanno dominato e se la rosa nel pugno può rinascere, secondo me può rinascere con la forza delle idee di chi ha avuto l'intuizione di fare in modo che i radicali anche intraprendessero questa strada. Quindi anche la responsabilità dei nostri leader, Remma Bonino e Marco Pannella perché comprendano che la forza che è nascosta nella rosa nel pugno è viva, è presente, ma non può funzionare come una macchina che tu costruisci e che pretendi di poter guidare senza avere la patente. Penso che per fare in modo che la macchina cammini ci sia bisogno di qualcuno che abbia la patente. Quindi mi aspetto che non si continui a guardare verso il passato o nell'eterno presente, ma penso anche questa grande sfida di Emma Bonino per il Quirinale sia un segno di un ritorno al futuro della rosa nel pugno. E con questo invito che Pierpaolo ha fatto per quanto riguarda Emma e per quanto riguarda appunto questo rilancio verso il futuro con la rosa nel pugno e con le tematiche appunto della rosa nel pugno, chiudiamo questo viaggio nella rosa nel pugno, questo viaggio politico, storico che ha riguardato la storia radicale e non solo, come Pierpaolo appunto ci ha potuto ci ha potuto far conoscere. Diamo appuntamento ovviamente a Pierpaolo su LibriTV, lo ringraziamo per questa intervista in esclusiva e daremo seguito anche a conversazioni vere e proprie perché questo è stato più, io ho pensato di realizzarlo come documento storico di ricostruzione grazie appunto a questo interesse che è quasi ventennale di Pierpaolo per questo tema e quindi elaboreremo anche eventualmente delle conversazioni che potremo fare in diretta con anche interazione, facciamo abitualmente su LibriTV per quanto riguarda le trasmissioni in diretta. Grazie ancora, grazie a Pierpaolo Signeri.